Strage della Valvenosta, rottura a valvola imprevedibile. Stando al perito incaricato dal collegio giudicante preseduto da Carlo Busato, la rottura del tappo della valvola dell'impianto di irrigazione che innescò la frana, che si andò ad abbattere sul treno e provocò la morte di nove persone, non sarebbe stata prevedibile. In Alto Adige cresce il numero di insegnanti colpiti da burn out. Il particolare emerso nel corso del convegno organizzato dalla CISL, incentrato sulla sicurezza nelle scuole. Nuova regolamentazione per la democrazia diretta, iniziativa di sensibilizzazione da parte degli esponenti di Iniziativa per più Democrazia, davanti al Consiglio provinciale per chiedere che i cittadini, attraverso il referendum consultivo, possano scegliere tra due opzioni e non solamente esprimere un sì o un no. Slittino, sempre più amato, ma serve sicurezza sulle piste. Nel corso del Summit internazionale organizzato a Bolzano, si è valutata la possibilità di introdurre il casco obbligatorio per divertirsi senza rischi. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione, lo avete visto e sentito, in apertura dai nostri titoli, sciagura ferroviaria della Val Venosta in primo piano, il perito sentito questa mattina in tribunale, la rottura della valvola dell'impianto di irrigazione era imprevedibile. Il 20 novembre si terrà la discussione finale che porterà alla sentenza. Questa mattina in tribunale a Bolzano si è tenuta l'ultima udienza prima della discussione per fare chiarezza sulla sciagura ferroviaria della Val Venosta che provocò nove morti e 28 feriti. La rottura del tappo della valvola dell'impianto di irrigazione, che il 12 aprile 2010 provocò la sciagura, non sarebbe stata provocata dall'azione del ghiaccio durante i mesi invernali precedenti alla tragedia. A fornire questo particolare il professor Alberto Molinari, del Dipartimento Tecnico dell'Università di Trento, sentito questa mattina in aula dal tribunale, nominato dal presidente del collegio giudicante Carlo Busato. Il professor Molinari ha esaminato il tappo della valvola da cui fuoriuscì, l'acqua che provocò la frana, nei suoi minimi particolari, dichiarando la presenza di una frattura lunga e storta all'interno del pezzo in questione che presenterebbe anche piccole crepe, segni di corrosione per l'usura. Chi controllava il sistema tuttavia secondo il perito non avrebbe potuto accorgersi dello stato del tappo della valvola per la posizione in cui si trovavano le crepe, dunque quanto accaduto non poteva essere prevedibile. Il 20 novembre è stata fissata la discussione che porterà alla sentenza. Il tribunale di Bolzano ha inflitto una condanna di tre anni di reclusione ad un ventenne albanese accusato di estorsione. La vicenda era partita da una vendita via web di una partita di marijuana, ma l'affare saltò e il mancato acquirente, un giovane marocchino, si presentò ai carabinieri denunciando di essere stato più volte minacciato dal fornitore che lamentava il mancato pagamento di una parte della droga fornita. Di qui le minacce e l'accusa di estorsione. Morti sul lavoro in Italia, tre le vittime al giorno, visti i dati preoccupanti, Maurizio D'Aurelio, segretario della Feneal Will, chiede maggior attività di vigilanza che potrebbe essere garantita in sinergia e collaborazione con gli organismi paritetici costituiti dalle parti sociali. Per la prima volta dal 2006 c'è un'inversione di tendenza, crescono gli infortuni mortali sul lavoro in Italia, 752 da gennaio ad agosto 2015. Lo scorso anno erano stati 652. A certificarlo sono i dati INAIL. Guardando nello specifico anche sul territorio altoatesino la situazione è preoccupante, come evidenza il segretario provinciale della Feneal, Will, Sgeca, Maurizio D'Aurelio. In provincia di Bolzano abbiamo registrato quest'anno otto morti, in parte del settore agricolo, ma in parte anche del settore dell'industria e delle costruzioni. È un dato sicuramente negativo. Per cercare di invertire questa tendenza, secondo il segretario Feneal, bisognerebbe puntare ad una maggiore attività di vigilanza attraverso il coinvolgimento degli organismi paritetici costituiti dalle parti sociali. Allora, gli organici della provincia che si occupano di verifica delle norme di prevenzione sono sempre i soliti. È impensabile però oggi chiedere alla provincia di aumentare gli organici. Quello che crediamo noi è che sia possibile oggi coordinare l'attività dell'Ispettorato del Lavoro con le consulenze degli organismi paritetici che sono costituiti dalle parti sociali in quasi tutti i settori. Una sorta di aiuto, di moltiplicatore delle verifiche, perché secondo noi le verifiche possono creare sicurezza. Non tutti i settori hanno costituito gli organismi paritetici, ma credo che quelli costituiti sarebbero oggi pronti ad aiutare gli uffici della provincia a fare le verifiche rispetto alle norme di prevenzione. Dalla sua esperienza manca la cultura della sicurezza? In questi anni noi abbiamo insistito molto sulla cultura della sicurezza. È sicuramente un obiettivo fondamentale far crescere nelle persone proprio la coscienza a lavorare pensando alla propria salute e quella dei propri colleghi. Va sicuramente continuata questa grande e meritoria opera, però credo che senza una massiccia opera di verifica del rispetto le cose purtroppo sono destinate a rimanere uguali. La Camera di Commercio di Bolzano dice no al limite di velocità di 90 km orari sulla 22 in caso di superamento dei valori di inquinamento. Tale provvedimento, affermano gli operatori, si ripercuote soprattutto sull'economia altoatesina, ma anche su quella delle regioni confinanti. limita fortemente la mobilità e fa lievitare i costi. Le Camere di Commercio e dell'Economia di Tirolo, Alto Adige e Trentino chiedono una soluzione unitaria del problema dell'inquinamento a livello di Euregio. In Alto Adige aumenta il numero di insegnanti colpiti da stress sul posto di lavoro. La sindrome del Born Out è in continua crescita, come emerso nell'ambito di un convegno incentrato sulla sicurezza nelle scuole. A Bolzano si è tornati a discutere di sicurezza nelle scuole. Gli ultimi dati risalgono al 2013, secondo l'INA, e due anni fa si sono verificati 1.123 infortuni di alunni, poco meno di un centinaio e casi invece che hanno interessato i docenti. Cifre che sono state attentamente analizzate nell'ambito di un convegno che si è tenuto stamattina a Bolzano, organizzato dalla Federazione Esgebe CIS Scuole e che ha coinvolto diversi insegnanti. Nella circostanza sono stati esaminati attentamente i rischi e i pericoli in ambito scolastico. I dati da cui partiamo sono quelli relativi agli incidenti e agli infortuni che avvengono in ambito scolastico. Gli ultimi dati del 2013 parlano di oltre 1.200 casi tra alunni e insegnanti che vengono coinvolti in infortuni o comunque in incidenti in ambito scolastico. La nostra attenzione oltre che agli aspetti volti alla tutela della sicurezza, quindi l'evitare che ci siano fattori di rischio all'interno degli edifici piuttosto che nei cortili delle scuole, sono anche legati al fatto di evidenziare come nel tema della sicurezza rientra anche il più complessivo tema della salute, quindi salute degli utenti, dei ragazzi delle ragazze, ma anche salute ovviamente degli addetti, dei professionisti, docenti e il resto del personale scolastico. Nell'incontro si è anche evidenziato come negli ultimi anni siano aumentati i casi di insegnanti colpiti dalla cosiddetta sindrome del burnout. Ci sono praticamente in crescita fenomeni anche di logoramento professionale o psicofisico anche all'interno del corpo docente e su questi fenomeni che vorremmo con interventi contrattuali con interventi legati anche al tema della sicurezza intervenire per ridurli e chiaramente o tendenzialmente vedere di eliminarli. Al convegno hanno partecipato un centinaio di persone in rappresentanza delle istituzioni scolastiche di tutta la provincia. La politica, sono tornati in piazza gli esponenti di iniziativa per più democrazia, lo hanno fatto stamani davanti al Consiglio provinciale, l'obiettivo è quello di ottenere un disegno di legge con una nuova regolamentazione per la democrazia diretta. Una freccia composta da manifesti orientata verso il Consiglio provinciale di Bolzano. Così stamani si sono presentati gli esponenti di iniziativa per più democrazia per ribadire la volontà che nel referendum consultivo preannunciato relativo al nuovo disegno di legge riguardante una nuova regolamentazione per la democrazia diretta, i cittadini non possano solo dire sì o no la proposta in Consiglio ma di poter scegliere tra due opzioni, quella del Consiglio o quella elaborata direttamente dalla popolazione. È in elaborazione un disegno di legge istituzionale da parte del Consiglio provinciale, non sappiamo quanto ci mettono ancora, però c'è in ballo anche il nostro disegno di legge che ormai possiamo dire che è il disegno di legge di una bella maggioranza dei cittadini, voluta dal voto referendario del 2009, per il quale attraverso gli anni sono stati raccolti 60.000 firme, sostenuto da 40 organizzazioni. Riteniamo legittimo chiedere che i cittadini si possano esprimere su due concezioni diverse probabilmente di democrazia diretta. Iniziativa per più democrazia per portare a termine questo ITER ha rivolto l'invito ad alcuni gruppi consigliari, Alto Adige nel cuore, Bürger, Union, Freiheit, Lichen, Verdi e Movimento 5 Stelle, i quali hanno supportato la proposta. Proseguiamo con la cronaca, un insolito intervento dei vigi del fuoco del corpo permanente di Bolzano si è svolto ieri nella zona di Settequerce, nel tardo pomeriggio i pompieri sono stati alertati da alcuni bambini sul fatto che nelle vicinanze della fossa Perele si aggirava un maiale, giunto sul posto la squadra dei vigi del fuoco ha appurato trattarsi di un maialino vietnamita che stava tranquillamente passeggiando lungo il canale. L'animale è stato quindi fermato e messo in una cassa in attesa dell'arrivo del proprietario. Il ritorno dello slittino, tendenze ed opportunità sono state al centro del Summit internazionale organizzato al Saleva Headquarter tra le priorità garantire la sicurezza per chi pratica questo sport anche nel tempo libero. Come si può rendere lo slittino ancora più appetibile per le aziende, per gli addetti del turismo e per i comprensori sciistici? A questa e ad altre domande hanno cercato di dare una risposta gli esperti invitati da Germania, Austria, Svizzera, Alto Adige al Summit internazionale dello slittino organizzato alla Saleva Headquarter di Bolzano e Vento patrocinato dall'Unione internazionale dello slittino. Allora noi siamo qua per sponare l'innovazione perché quella ci serve per portare avanti la nostra economia e il nostro buon essere e slittino è una nuova possibilità dove possiamo creare una nuova attività, una nuova attività ricreativa, sportiva che crediamo sia per il futuro molto importante per la nostra regione. Lo slittino come sentito dagli esperti è tornato in auge e non lo pensano così solo gli amatori che fanno i conti con piste sempre più affollate. Per me lo slittino è già interessante perché ha tutte le qualità che noi cerchiamo, è facile raggiungere, economico, c'è velocità, c'è famiglia, c'è il gruppo, c'è divertimento, c'è neve, quello che da bambino ci avevamo sognati e che adesso possiamo anche da adulti portare avanti. Aziende, operatori turistici e comprensori sciistici sono i primi a trarre vantaggio dal consenso che trova lo slittino, ha spiegato Thomas Igerbrach, manager del cluster Sport & Winter Tech, ma sono tutti gli enti, le organizzazioni e le persone coinvolte a dover contribuire a rendere questa pratica sportiva ancora più sicura. Tra le priorità che ha visto concordi tutti i partecipanti al Summit vi è quella di garantire sempre più sicurezza, magari introducendo l'obbligo del casco. A partire dal 19 ottobre il ponte sul Passirio a Merano sarà aperto ai ciclisti in via sperimentale, l'accesso sarà consentito dalle 18.30 alle 10 del mattino. Ad è stato un certo scalpore tra i residenti meranesi la decisione della giunta comunale di aprire ai ciclisti a partire dal 19 ottobre, seppur in via sperimentale, la passerella delle terme. La circolazione in bici sarà messa dalle ore 18.30 fino alle 10 del mattino. Come detto, si tratta di un vero e proprio esperimento viabilistico che durerà tre mesi, come confermato dal primo cittadino di Merano, Paul Roesch. Ma noi adesso ultimamente in giunta abbiamo che apriamo, ma soltanto fino alle 10 del mattino. Allora sono le scolaresche, i studenti, tutti quelli che vanno avanti e indietro, come un po', la stessa cosa come in via cassa di risparmio, là è già aperto fino alle 10, allora viene soltanto prolungato. È anche una questione di chiamiamolo rodaggio in modo che ci abituiamo, ma proviamo, dopo tre mesi non ci riusciamo, diciamo definitamente di no e chiudiamo tutto quanto, perché finora è sempre in sospeso. Adesso noi diciamo partiamo, cerchiamo file 10, se funziona va bene, se non funziona possiamo anche lasciarlo, non è una cosa definitiva. Nel caso in cui la convivenza fra pedoni e ciclisti nel tratto compreso fra la passerella e Corso Libertà dovesse dimostrarsi possibile, il provvedimento verrà tenuto in debita a considerazione in fase di revisione del piano della mobilità ciclabile del 2008. Domenica tornerà a Bolzano il tradizionale mercato d'autunno per le vie del centro storico, saranno allestite 120 bancarelle, diversi prodotti proposti al pubblico, dall'abbigliamento alla pelletteria, dagli alimentari e gli articoli per la casa, inoltre saranno presenti alcuni stand di gastronomia, prodotti regionali e specialità. E questa era la nostra ultima notizia, ora un breve stacco pubblicitario, poi noi torneremo in studio con il nostro magazine, come sempre al venerdì dedicato al Tempo Libro. immergetevi nel paradiso balneare del Balneum Vipiteno, lasciatevi coccolare nel nostro ampio reparto sauna e benessere, unico sotto tutti i punti di vista. Balneum Vipiteno, il centro balneare per lo sport e il relax per tutta la famiglia. Balneum Vipiteno, il centro balneare per lo sport e il centro balneare per lo sport e il centro balneare per lo sport. Rilassati e rimettiti in forma al Continental Terme Hotel di Abano Montegrotto Terme. 5 piscine termali, moderna spa, beauty farm. Goditi le settimane relax, in linea o i programmi cure termali, easy activity e le offerte famiglia. Un centro termale convenzionato a AS per la fango balneoterapia e le inalazioni. Le nostre offerte, pensione completa da 78 euro, weekend 205 euro, programma di 6 fanghi con impegnativa ASLA e 6 massaggi 84 euro. Vi aspettiamo! Oggi è l'estate!